Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Totally Battle... S-S-S-S-M Emulator La scorsa volta siamo passati dai pirati e abbiamo praticamente già completato tutto Perché sono solo due mondi da fare Ci manca veramente poco, quindi lo finiamo oggi sicuro Ma prima, volevo fare un'altra roba Tralasciando il fatto che il rinascimento l'abbiamo saltato completamente Non... pensavo di averlo già fatto, ma in realtà non ce l'abbiamo proprio Oggi partiamo con l'andare a cercare delle truppe segrete Che c'erano tra i giapponesi Tranquilli, naturalmente non so mai dove sono, quindi andremo a cercarle dove ci dice il sito magico A quanto pare tutte le cose di oggi si trovano in una mappa qualsiasi L'importante è che sia la mappa della dinastia, questa qua dei giapponesi appunto Finora tutte le unità segrete si trovavano nelle mappe della sandbox Che è quell'altra modalità Però no, hanno detto no, oggi le mettiamo lì Ovviamente è anche inutile andare a leggere dove si trovano perché non ti spiegano un cacchio Eccone uno Oh, becca qua nell'acqua, ovviamente saranno tutte nell'acqua queste qua Taekwondo Vediamo se riusciamo a trovare delle truppe giapponesi che possono effettivamente servire a qualcosa Perché attualmente non serve niente a nessuno No Ma guarda che sono infami, guarda che maledetti Guarda che maledetti È qua, no? Me l'ha messa sotto la mappa questa Ti immaginavo che dovresti passare per quel buco Samurai giant Samurai gigante Gigante samurai Oh mio dio Samurai gigante bellissimo Oh qua c'è un'altra Pieno di spade conficcate in giro per tutta la mappa, va bene Shogun Oh Questo è carino Attenzione perché forse possiamo provare ad avere delle truppe non male Delle truppe giapponesi non male Raga mi mancano due truppe da trovare Non le trovo Cioè mi dicono guarda sono qua ma non le trovo Dovrebbero essere in teoria degli shuriken e tipo una lancia o qualcosa del genere Solo che non si trova Cioè la lancia dovrebbe essere sotto il tetto Ma tipo what the hell? Cioè dove dovrebbe essere? Guarda che maledetti raga Me l'ha messa qua dentro Ma come? Come faccio a trovarla? Era dentro incastrata lì Red jade Ok questa dovrebbe essere tipo statizia col falcione più lungo Però va bene Non so se riusciremo ad usarle in un qualche modo però Ah ecco gli shuriken E questo dovrebbe essere il sensei Esatto Che non so se è simile al ninja Perché c'è gli shuriken però non so se magari è più forte Ora possiamo tornare alla lotta contro i pirati Magari usiamo anche queste truppe nuove Se ce le facessero usare ovviamente Perché dobbiamo usare i pirati Maledizione O una volta facciamo una battaglia di solo truppe nuove Perché non me le fanno mai usare Io ne ho un sacco E non me le fanno mai usare Voglio usare il gigante degli shuriken Quello comunque anche si chiama Allora raga io non mi ricordo come funzionavano le truppe dei Dei pirati qua Erano un po' ubriachi Questo me lo ricordo Però spero che magari un minimo sappiano lottare Si ricordino come funziona tutto Vi prego Funzionate qualcosa Abbiamo il minotauro Ecco il minotauro mi ha già mangiato il tizio Dove è finito il minotauro? Raga come cacchio c'è finito il minotauro qua? Ma che cacchio è successo? What the hell? Abbiamo i tizi con le bombe Ma sono scemi Ma mi hanno lanciato le bombe al capitano Ma siete pazzi? Guardalo guardalo Stanno anche ho vinto Guardalo Guarda la traiettoria Guarda la traiettoria Guarda dove andava a finire Guarda dove andava a finire Ma questi sono pazzi? Qua abbiamo un bellissimo Zeus Il problema saranno probabilmente gli arpioni qua dietro Che spero di distrarre con questi poveracci Vi prego raga Finora non mi avete tradito molto Guarda il capitano Dagli su Zeus Trancialo Guarda lì raga Guarda lì No ma questi mi tirano le bombe addosso No no Capitano è tutto opposto Ho vinto Capitano il suo sacrificio è stato ripagato Oh Vecchi c'è Papa bear Seguito da questi che sono quelli che si lanciano loro Loro sono gli infami che usavamo per distruggere i pirati giustamente Allora come facciamo? Mettiamo un po' di lanciatori di bombe I lanciatori di bombe sono fenomenali Tranne qualcuno che ovviamente è ubriaco e si lancia contro gli altri Lancia le bombe contro i nostri però va bene Direi che non siamo messi male I lanciatori delle pistole lì Non servono a un cacchio però Magari riescono a tenere a bada qualcuno per qualche secondo Le valchiri sono un grande problema Il capitano mi è morto Vabbè ma è classico Ma non potevamo vincerla raga I lanciatori di bombe non servono a niente Mi servono più pistoleri qua Guarda lì Vai Mi raccomando il capitano tenetelo a bada Mi raccomando il capitano Guarda lì che fucilate che tira Cosa abbiamo di rimasto? Allora abbiamo un Papa Bear qua Che continua a tornare in vita Spero che sia morto adesso Dai capitano Dai Capitano contro Papa Bear Dove spara? Ma spara al contrario Grande capitano Mitico Nonostante avesse una grande quantità di alcol nelle vene È riuscito a vincere Non è riuscito a sparare un mezzo colpo dritto Ma abbiamo vinto lo stesso Ok frecce e arco Qua cosa abbiamo? Abbiamo loro che sono quelli ghiacciati mi pare Che sono quelli che ghiacciano quindi non ci servono a niente E sono loro un problema Che in realtà Non sarebbe nemmeno così tanto un problema Cioè io potrei mandarle tipo loro e loro Che sparano e lanciano la pistola in giro E poi loro qua A tirarle una grande quantità di granate addosso Magari provate a vincerla Che cacchia ne sono Guarda lì Cioè non possiamo perderla Dai guarda questo Questo è ghiacciato È tipo quello di Game of Thrones L'esercito dei non morti Guardalo 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 Sono degli zombie Scusa Abbiamo vinto Ah ok Oh raga ogni tanto qualche gioia dovrò averla pure io Con queste cacchie di eserciti Vedete? Vedete? Loro mi piacciono I pirati sono veramente forti Poi ogni tanto succede che abbiamo la fortuna di andare contro questi tizi Contro i giapponesi Questi qua raga non sanno cosa vuol dire combattere Io gli mando due di quelle Abbiamo vinto Ah c'è il tizio delle scimmie Cacchio non l'ho visto il tizio delle scimmie Potrebbe essere un problema Forse Sì non lo so Non ci capisco più niente L'unica cosa che vedo è che vuole la gente Tra le scimmie che si lanciano ovunque E la tizia che lancia bombe si lancia via E l'importante è quello raga Non c'è nessun Perché nessun ma Abbiamo vinto punto Cosa abbiamo di bello qua? Beh abbiamo degli arcieri innanzitutto da sparare con loro Un po' di qua e un po' di qua Tiè Ma soprattutto qua abbiamo i monk Abbiamo quei cacchi di monaci E quelli li possiamo fare con due regine Penso Spero Forse ho esagerato con i pistoleri Ah no non sono gli arcieri vero I giapponesi non c'ha gli arcieri giustamente C'hanno i lanciatori di razzi Che sono ancora meno utili degli arcieri Guarda lì Guarda lì Ma è fortissimo Cioè Jack Sparrow qua è fortissimo È rotto È troppo rotto come personaggio Ma questo è del rinascimento Raga noi non li abbiamo fatti loro Cacchio Ma che cacchio c'è un pittore No vabbè raga ma io questi non posso farli Ma non so Non so chi sono se truppe Boh i pittori li lanciano due granate addosso Ma i tizi là con la cosa cosa fanno? Non lo so Vai dei pistoleri? L'unica cosa che posso fare Vai dei pistoleri Mettici anche due con il blunderbuss Vai Cosa fanno? Ma che cacchio sono tipo i mammut Ci sono anche i ballooner Oh No ci sono i maledetti che volano Porca vacca Aspetta ma Non sono riuscito? No Questo non è morto Uno è morto Però sono rimasti in vita tutti loro Oh mio dio Potrebbe essere complicata come cosa Sono dei cacchio di suicida Guarda allora il capitano non ce la fa comunque contro i cavalli Me l'han travolto Sti cavalli sono da distruggere Non so come fare ma sono da distruggere i cavalli O ci andiamo con i cannoni Questi cavalli Però penso che non ce la fanno a caricare in tempo loro Anche perché vedi Sono stupidi Giustamente lanciano prima il colpo su Su quelli lì davanti Dai bello Guarda lì Io l'ho stacchito No vabbè ma poi Poi vivono Oh mio dio che cannonata Dai bello Dai bello No No Non farti trascinare via L'idea c'era raga Il problema è che non avevamo truppe abbastanza per proteggere i cannoni Cioè una volta che i cannoni sono riusciti a uccidere i cavalieri Sono morti Perché poi rimangono in vita loro Gli arcieri sono il problema raga Quei cacchi di maledetti Non riescono Non vedi che se ne stanno fermi lì Intanto i cavalieri passano col cavallo Via butta giù tutto Prego passa Perché Perché quel cavallo è lì Cosa ha fatto È morto Vabbè è morto sì I cavalli nuotano Alexa I cavalli nuotano I cavalli nuotano Wow Ma a quanto pare lui non sapeva nuotare Allora dobbiamo provare a fare un'altra cosa Questi cannoni Poi ho provo con gli arpioni Perché magari anche gli arpioni di c contro i cavalli li ammazzano Teoricamente parlando Però siamo su totale battle Systematic rate Proviamo con una pirate queen Non so cosa possa fare da sola Però proviamo Il problema sono i palloncini Ma sono loro che lanciano i palloncini Non sono i pittori Guardala lì Questo si è incastrato Ma questo è il cavallo di prima che non sa notare Dai bella Dai bella Cioè è morta No è ancora viva Non so quanti palloncini ci abbia addosso Ma è ancora viva Dai bella Let's go Let's go Si va a vincere Si va a vincere Grandissima Qua cos'è che abbiamo di difficile Allora abbiamo loro col fucile Non abbiamo i tizi con i palloncini Sono fastidiosissimi raga Abbiamo delle guardie Abbiamo dei moschettieri In teoria Non dovrebbe essere neanche difficile Suppongo che tipo Li metto un po' di bombardieri qua davanti I soliti I soliti con le pistole Che si offrono volontari per morire Noi diamo un bel capitano dietro Ecco lì E l'opera è completa Come non detto Ci sono loro che tipo sparano Guarda Cioè da lì Sparan da qua Mi hanno colpito là I tizi con le bombe Si fanno saltare e andare da soli Beh è ovvio Cioè si lancia le bombe sui piedi Proviamo anche noi Un esercito di questi qua Che sparano col fucile Dì tanto ce li hanno anche loro Ma guarda lì Ma da lontanissimo Cioè partono E muoiono Così Ogni tanto vedi che ne muore uno Non capisci come Poi sono loro dietro che sparano Ok che sono finito Aiuto Dai belli Dai belli Carica Non capisco che cacchio di pistole C'hanno quelli là Perché c'hanno dei fucili Che davvero sono Cioè sparano un colpo E mi parte via il tizio Però la vinciamo La vinciamo Manca solo lui Non erano un cacchio di vita questi Questi sono delle foglie Cioè li spari un colpo Abbiamo vinto Forse ora possiamo provare ad usare i pirati Andiamo nel rinascimento Non so quanto sono Però vabbè facciamo un paio di livelli di rinascimento Non posso usare i pirati Giustamente direi anche Teoricamente noi non li abbiamo ancora sbloccati Però Possiamo usare tutti E dato che lì ci sono dei bei pittori No il mammut costa 2.200 Che sfida Avrei mandato tipo un mammut per prendere tutta la roba Ma tipo uno Zeus Riesce Zeus A ucciderli tipo tutti No sono troppi raga Sono troppi Sono troppi Guarda come picchiano Ma che cacchio c'hanno in mano Il pennello Sono delle Ah è un pennello Non so se siete degli sfigati Me l'hanno mangiato Aiuto Aiuto Zeus Guardalo guardalo Sto facendo aiuto Se riusciti a cedere me lo appennellate Il problema raga è che sono troppi Oh mio dio Ma se andiamo così Vediamo sta ondata d'arte Come va a finire Guarda lì Guarda lì Guarda lì Bellissimo Dai belli Dai belli Vabbè ma easy Guarda lì poveraccio Cioè Con i pennelli Lui non riesce neanche a togliere Uno dei draghi Cioè I tizi con i draghi Si inciampano in un sasso Sono perso Quello lì col pennello Non riesce neanche a far quello Raga è sotto di voi comunque Cioè Potete anche lasciare il drag Volendo Le scelte sono due O vi fate picchiare Oh bravi L'avranno calpestato Probabilmente Perché se no non vincevano Però mi è piaciuta sta ondata d'arte Si si Direi quasi che possiamo replicare Stavolta però ci metto dei bambini Qua davanti Adesso che c'è il ritorno dei bambini Perché ho visto che ci sono Quei maledetti lanciatori Con i Quei palloncini Guarda 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 Vedi Vedi che servono i bambini Vola piccolo Si belli Guarda i bambini Guarda i bambini Accompagnati dai loro genitori Che vanno a picchiare I tizi col palloncino Cazzi A tutti piacciono i palloncini Perché non prendere un palloncino Oh mio dio ma Ma questi sono i livelli per i draghi Daie Daie di drago Si E ovviamente davanti Li mettiamo un po' di bambini Cioè raga guarda Sono fatti apposta per i draghi Questi livelli Ah Ah Vedi Vedi che ha messo loro Anche i fucilieri Mi piace l'idea del drago Però mi sa che possiamo provare Con questi Dato che in teoria Prima del rinascimento Ci dovrebbero essere i giapponesi Quindi te dovresti avere i giapponesi Come truppe nuove Allora proviamo i monkey Sperando che loro puntino i bambini Perché è pieno di bambini Cioè due monkey Piene di bambini Non puoi prendere i monkey E invece hanno preso tutti Tutti i monkey hanno preso Guardali come menano Guardali come menano Ragazzi sono assatanati Sti bambini Questo è quando Andate ad Halloween Le aprite alla porta Un bambino Vi fa dolcetto scherzetto Voi non gli date niente Questi ti buttano giù la porta E ti entrano in casa E ti menano Dovrebbe funzionare così Mi pare L'ultimo Halloween Che ho fatto era così In ogni caso Ragazzi Io penso che per oggi Possiamo terminare qua Ci siamo inoltrati Verso il rinascimento E la prossima volta Lo continueremo Non so se lo finiamo Perché sono tre mondi Abbiamo sbloccato Delle truppe segrete Che purtroppo Non posso usare però O forse posso usarle Ma non me ne sono accorto Che ce le hanno sbloccate Ma per il momento Noi ci rivediamo Alla prossima parte Sempre Su Totally Battle Accurate Simulator Il titolo potrebbe Non essere quello Qui dall'Anulf è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.